Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale maxillofacciale da oltre 30 anni. La mia attività professionale si è svolta da sempre coniugando attività chirurgica ospedaliera in reparto di chirurgia maxillofacciale e attività chirurgica ambulatoriale in strutture odontoiatriche private. Questa situazione mi ha indotto nel tempo a cercare di adeguare le caratteristiche della sala operatoria ambulatoriale a quella della sala operatoria ospedaliera, questo prevalentemente ovviamente per questioni ergonomiche. L'incontro con Tecnomed ha reso possibile in tempi molto rapidi la realizzazione di questo progetto grazie alla grande dinamicità di questa giovane azienda italiana che per prima a livello internazionale ha compreso la necessità di creare una ambientazione chirurgica adeguata e consona a quelle che sono le esigenze della chirurgia orale che normalmente, rutinariamente, viene affrontata in ambito libero professionale, quindi in strutture odontoiatriche generiche. È così nata Endy Surgery, una linea completa di arredo ed attrezzature studiate proprio per la sala chirurgica odontoiatrica. La caratteristica principale saliente di questa linea è data dal fatto che ogni componente è realizzata in acciaio inox. Sappiamo benissimo che in ambito medicale, chirurgico in particolare, l'acciaio inox è il materiale d'eccellenza, ovviamente per la prima caratteristica che è quella della facilissima igienizzazione, quindi chiaramente una caratteristica estremamente utile nell'allestimento e nella manutenzione delle sale operatorie. Altro aspetto sicuramente non fondamentale ma che comunque ha la sua relativa importanza è anche l'effetto estetico. Ovviamente bisogna anche considerare appunto che un arredo completamente realizzato in acciaio inox dà all'ambiente stesso una immagine di pulizia, di professionalità e anche proprio di estetica pura, sicuramente superiore a quello che si ottiene con i normali materiali utilizzati in allestimento di normali studi odontoiatrici. Iniziamo ora quindi ad entrare nei dettagli e analizzare appunto le varie caratteristiche di ogni attrezzatura che rientra nell'allestimento Handy Surgery, iniziando da quello che è sicuramente l'elemento fondamentale, ovvero la poltrona barra lettino operatorio che possiamo vedere da un punto di vista estetico ovviamente, tornando appunto all'aspetto estetico, ha sicuramente la sua grossa valenza. Vediamo quindi appunto come dal punto di vista della resa estetica l'acciaio inox sia estremamente efficace, tutta la struttura è costruita in acciaio inox e la seduta, la poltrona ha uno sky che è perfettamente igienizzabile, ovviamente anche questo diciamo ha ben evidenti tutte le sue caratteristiche di notevole ricerca estetica. La poltrona è dotata di quattro motorizzazioni che permettono quindi assolutamente una grandissima versatilità di posizionamento del paziente e questo aiuta enormemente ovviamente il chirurgo. Abbiamo la possibilità quindi di movimentarla sia in senso verticale con alzata e discesa, sia con un joystick a pedale che con un telecomando. Vediamo quindi le possibilità d'azione che abbiamo appunto movimentando la poltrona con il comando, abbiamo la possibilità in maniera molto semplice e rapida di trasformarla completamente in lettino operatorio e altro aspetto molto importante è quello che la alzata del letto operatorio barra poltrona può raggiungere il metro d'altezza e questa è una caratteristica estremamente importante, cosa che ovviamente con i riuniti odontoiatrici generici non è possibile raggiungere perché sono poltrone che raggiungono mediamente gli 80 centimetri, non più di 80 centimetri. Questi 20, 25 se non 30 centimetri a volte di differenza francamente possono giocare la loro parte nella comodità e nell'ergonomia in sede intraoperatoria specialmente quando il chirurgo come ad esempio per il sottoscritto è abituato a operare in piedi prima cosa secondo quando il chirurgo e non è il mio caso invece è particolarmente alto. Altro aspetto abbastanza importante è quello che la movimentazione in verticale è perpendicolare alla pavimentazione quindi questo ci permette di non dovere ogni volta che spostiamo anche leggermente la posizione del paziente andare a compensare con dei movimenti delle lampade, delle sciaglitiche o quelle che abbiamo a disposizione ed eventualmente anche dei carrelli a disposizione. Ha una certa rilevanza anche un altro aspetto che riguarda prevalentemente il discorso di pulizia e di igienizzazione, il fatto che il letto operatorio è sollevato dal pavimento e quindi dà la possibilità di una pulizia e di igienizzazione anche al di sotto dello stesso. Oltretutto esiste anche una versione con ruote per cui il letto operatorio può essere anche movimentato in senso trasversale quindi ruotato a seconda delle esigenze dell'operatore e anche a seconda dell'ergonomia intervento per intervento a seconda della frequenza in sala operatoria della presenza in sala operatoria di un team più o meno nutrito. Altro strumento fondamentale particolarmente interessante realizzato da Tecnomed ed è sicuramente che questa è una grandissima innovazione, non mi risulta che ci siano apparecchiature diciamo analoghe, è il MyCart che sostanzialmente è un tavolo di maio quindi ha la possibilità di essere movimentato in senso verticale con estrema facilità e rapidità, al quale però è collegato sostanzialmente in un unico blocco un vero e proprio riunito odontoiatico quindi nel quale possono essere inseriti a scelta varie strumentazioni, in questo caso ad esempio lablatore, turbina, micromotore, siringa, tutte attrezzature che in una normale sala operatoria diciamo adibita quindi per un utilizzo che non sia espressamente odontoiatrico o per la chirurgia orale normalmente chiaramente non possiamo trovare, quindi diciamo un'attrezzatura estremamente utile per tutte le procedure di chirurgia orale che possono essere attuate nell'ambulatorio chirurgico della struttura odontoiatrica. La versatilità di utilizzo di questa apparecchiatura ci permette anche di posizionare in realtà il tavolo di maio e quindi il vassoio e in parte anche la strumentazione sopra il paziente e questo è lo stesso una diciamo una caratteristica che sicuramente rende il lavoro dell'operatore in determinate situazioni estremamente più agevole, in particolare quando si stia lavorando ad esempio a quattro mani e non a sei, a seconda diciamo della organizzazione del team operatorio, in determinate situazioni questa possibilità di movimentazione è sicuramente molto molto vantaggiosa. Vediamo appunto nella pratica questa possibilità di allestimento, non si fa altro che prendere il my kart e spostarlo, alzarlo con il pistone oleopneumatico fino all'altezza desiderata e quindi andarlo a posizionare perfettamente sopra il tavolo operatorio. Ci si rende perfettamente conto che a questo punto per l'operatore la dinamica dell'intervento, l'ergonomia è sicuramente estremamente facilitata. Altra caratteristica molto importante di my kart è quella che il vassoio può traslare lateralmente in questa maniera e quindi permetterci proprio di andarla a posizionare esattamente sopra il paziente quindi avere un'accessibilità alla strumentazione ancora più comoda. E non finisce qui perché my kart dà altre possibilità estremamente utili e sono queste ovvero la possibilità di smontare rapidissimamente con estrema facilità tutti i supporti sui quali sono alloggiate e alloggiata la strumentazione e autoclavarli. Questa è una caratteristica che nessun altro riunito a carrello mi risulti abbia a disposizione almeno al momento. Altra strumentazione estremamente interessante realizzata da Tecnomed è Easy Tray, questo carrello che sostanzialmente ha questa caratteristica fondamentale, quella prima di tutto di nascondere tutti i cavi di alimentazione nella colonna centrale, molto massiccia ma anche da un punto di vista estetico sicuramente con una resa sicuramente molto molto piacevole e la possibilità, viste anche le dimensioni, di poter nello stesso carrello operatorio andare a posizionare tutta l'altra strumentazione che normalmente e abbastanza diciamo spesso può essere utile nell'esecuzione di interventi di chirurgia orale ovvero il motore per implantologia, il classico motore da implantologia, piezo surgery che lo stesso è uno strumento che ultimamente viene, non dico utilizzato rutinariamente ma comunque sta avendo una grossa diffusione, e l'elettrobistori, quindi sostanzialmente tre apparecchiature abbastanza ingombranti che normalmente difficilmente riescono ad essere collocate in maniera razionale con i normali carrelli che vengono utilizzati nel normale studio odontoiatico, quindi questo tipo di struttura racchiude in sé tutte le caratteristiche per poter organizzare il tutto in maniera molto lineare, molto ergonomica e molto comoda. Altra caratteristica è quella che come per MyCart anche in EasyTray i supporti per la strumentazione sono ammovibili e ovviamente anche questi sterilizzabili, caratteristica anche questa sicuramente estremamente importante. C'è inoltre anche la possibilità di rimuovere sempre facilissimamente, proprio con un gesto, i tray che viste le dimensioni possono essere comunque tranquillamente termodisinfettati in un termodisinfettore tradizionale o in casi in cui uno abbia una struttura abbia a disposizione delle autoclavi estremamente ampie anche essere sterilizzati. Altra componente estremamente interessante ed utile di tutto l'allestimento Handy Surgery è il gruppo idrico ed aspirazione, che ha la caratteristica di essere facilissimamente mobilizzabile, quindi può essere spostato estremamente vicino al paziente. Questa è una cosa estremamente utile quando l'operatore in situazioni anche a volte di emergenza può doversi trovare ad operare anche da solo, quindi a due mani, e quindi ha la possibilità di accedere alla parte di aspirazione con estrema facilità. Altra caratteristica analoga a quella che abbiamo già visto sia sul Easy Tray che sul MyCart è quella del fatto che i supporti nei quali sono posizionati gli aspiratori possono essere facilissimamente rimossi e autoclavabili. Quindi abbiamo anche in questo caso la possibilità di agire sempre in zone che sono state totalmente sterilizzate, quindi con il rispetto della sterilità durante le operazioni che riguardano l'intervento stesso. Altra caratteristica è quella di poter inserire direttamente sul gruppo di aspirazione le normali cannule siliconiche sterilizzate che vengono utilizzate in sala operatoria. Questo ci permette appunto di collegare direttamente all'aspiratore senza doverlo estrarre per poterlo attivare perché abbiamo un pulsante con il quale la funzione di aspirazione può essere inserita o disinserita. Continuiamo la descrizione delle attrezzature fondamentali nell'allestimento Endy Surgery con appunto la descrizione della parte illuminante che è deputata all'efficacia di due lampade scialitiche estremamente poco dimensionate, estremamente leggere e anche molto molto facilmente orientabili. La caratteristica di questa illuminazione è quella di avere prima di tutto una potenza notevole perché parliamo di due lampade scialitiche che hanno una potenza di 50.000 lux l'una per cui quando si vanno a sovrapporre abbiamo una potenza di ben 100.000 lux. Lo spot è uno spot che va alle misure di 20x30 quindi estremamente ampio. Paragonato a quello della illuminazione che può essere resa da una normale lampada odontoiatrica, da riunito odontoiatrico, abbiamo ovviamente la possibilità di non avere zone d'ombra, un campo sicuramente illuminante molto più ampio e una potenza obiettivamente nemmeno paragonabile. L'altro aspetto importante se lo andiamo invece a paragonare con quello della classica sala operatoria nella quale troviamo le classiche scialitiche è quello delle dimensioni molto più contenute, della facilità di movimentazione è un aspetto molto molto importante, specialmente quando si tratta di strutture odontoiatrici, quali studi odontoiatrici, diciamo, tra virgolette generici e anche quella legata alla possibilità di applicazione e di montaggio estremamente semplice, senza dover ricorrere a lavori impegnativi per rinforzare strutture che non sono magari adeguate per supportare e per reggere i pesi che sono caratteristici delle normali lampade scialitiche da sala operatoria, molto più grandi ma estremamente pesanti. Quindi in questa maniera diciamo che Tecnomed è riuscita a risolvere una problematica che nell'ambulatorio odontoiatrico, anche in quello specifico, diciamo, per chirurgia, è sicuramente molto sentito. Ciliegina sulla torta dell'allestimento Endy Surgery è il mobile Matrix, che è questo bellissimo mobile Inox, nel quale è sostanzialmente compreso un monitor LCD da 42 pollici a scomparsa, che scompare quindi completamente dentro il mobile stesso, e questo dà anche possibilità di igienizzazione chiaramente particolari. Al di là di questo aspetto, la caratteristica sicuramente fondamentale di questo mobile qual è? È quello di avere a disposizione, collegato al monitor LCD, una tastiera virtuale, che viene proiettata in un supporto in materiale plastico sterilizzabile, con il quale in sostanza l'operatore in sede intraoperatoria, quindi nel preciso momento in cui esegue l'intervento chirurgico, ha la possibilità direttamente con guanti sterili in mano, di fare un'operazione che sostanzialmente, questo io lo sostengo in maniera assolutamente decisa, una manovra che è spesso direi necessaria, ovvero quella di andare a ricercare nelle immagini TAC, che sono ormai ovviamente esclusivamente in formato digitale, andare a ricercare nelle immagini TAC proiezioni, misurazioni, come vediamo ad esempio in questo momento nel monitor, che sono di particolare interesse in quello specifico momento intraoperatorio. Quindi la possibilità di interagire con un supporto visivo, che è quello appunto della proiezione dell'immagine TAC, senza doverlo demandare ad altri, anche perché questo in molte situazioni non è possibile, perché se io ricerco un'immagine esatta nell'esame TAC che ho precedentemente visionato, non posso dire alla mia assistente, sterile o non sterile o chi che sia, di andarmi a cercare quella precisa immagine, lo devo fare direttamente io operatore. Quindi la possibilità di arrivare con guanti sterili, posizionarmi sulla tastiera, usare il mouse e andare a ricercare l'immagine esatta che richiedo, è assolutamente una possibilità che non è da prendere, da sottovalutare nella maniera più assoluta. Quindi direi che questo mobile racchiude in sé una caratteristica di innovazione assolutamente molto molto particolare, molto utile. L'ultimo accessorio della linea Endy Surgery riguarda la zona lavaggio. La zona lavaggio raramente in uno studio odontoiatrico generico, anche qualora venga allestita una saletta chirurgica autonoma, prevede anche la presenza di un locale attiguo per la zona lavaggio. In alcune situazioni sì, ma di sicuro non è una situazione così comune. Allora Tecnomed ha pensato a una soluzione alternativa, ovvero l'inserimento del lavello all'interno dell'ambulatorio chirurgico, ma con delle caratteristiche particolari. E sono appunto queste. Il lavello è praticamente racchiuso, nascosto all'interno di questo mobile, che può essere aperto, utilizzato, il lavello utilizzato in maniera del tutto comoda, anche perché è di notevole dimensioni, ha una larghezza di ben 80 centimetri. Il chirurgo si può lavare tranquillamente e dopodiché, una volta effettuata l'operazione di lavaggio, richiudere il tutto. Nel momento della chiusura del mobile stesso si aziona automaticamente una lampada ultravioletti che determina quindi chiaramente un abbassamento della carica microbica e quindi il tutto, diciamo, una volta richiuso, rientra in questo contesto estremamente elegante, pratico e igienizzabile di tutta la linea Andy Surgery. Con questo io ho finito la descrizione dell'allestimento Andy Surgery. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.